Dopo l'ordinazione episcopale, Monsignor Marco Salvi lascia la parrocchia di Anghiari per svolgere il suo nuovo servizio di ausiliare di Perugia, città della Pieve. Il saluto ufficiale alla Chiesa Perugino-Pievese è in programma per il 5 di maggio nella cattedrale di San Lorenzo. Un'occasione speciale perché nello stesso momento la diocesi Umbra saluterà Monsignor Paolo Giulietti, chiamato alla guida dell'Arcidiocesi di Lucca. Chi volesse salutare Monsignor Marco Salvi può farlo domenica 28 aprile presso il santuario della Madonna del Carmine di Anghiari. Qui è prevista una grande festa che prevede una messa alle 15.30 presieduta dall'ormai ex parroco celebrata insieme ai presbiteri del vicariato e animata dal coro del vicariato diretta da Cesare Ganganelli. Un coro questo che riunisce i vari cori parrocchiali preesistenti, oltre che la corale intitolata Don Vittorio Bartolomei. La celebrazione è preceduta da un pellegrinaggio dalla frazione di Micciano fino al santuario sulle stile delle erogazioni per invocare la benedizione sulle campagne. Il 28 di aprile, domenica in Albis e festa dell'amore misericordioso, viene anche consegnato ai nuovi membri della confraternita della Madonna del Carmine, una trentina in tutto, lo scapolare. Si tratta di un piccolo pezzo di stoffa legato con due cordicelle, l'abito striminzito dei carmelitani comunemente chiamato abitino, a simboleggiare un rinnovamento dell'abito battesimale. L'ingresso nella confraternita è il coronamento di un percorso che impegnerà i consacrati alla Madonna del Carmine nella preghiera quotidiana. Una tradizione reintrodotta proprio da Don Marco che nel 1996 ha portato alla fondazione del sodalizio che conta oggi più di 1800 membri anche oltre il territorio anghiarese.